chi riesce a far uscire david di regalo un ballo da 200 che ne so avete giustamente due due minuti per far uscire david Matteo a partire da ora i due minuti poi viene esplorso fai questa stessa nevito a volte il bimbo a voi il bimbo a voi il bimbo a voi il bimbo a voi il bimbo che cosa che cosa fa la cosa male Matteo è già passato un minuto Matteo eh no Matteo è passato un minuto Matteo ehm dilli dios certo david salga no 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 non eres mai culpa no no mai dicio mai dicio se si vabbò dissociando e la stiamo insultando in spagnolo ecco ma no lega no 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 non così me no 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 me desassocio me desassocio me desassocio me desassocio no no io me desassocio no 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 me desassocio ciao amico no 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 rega scusatemi per qualora che sono appena entrati rega dovete capire che sta david x man che è un è un ragazzo spagnolo che non ha intenzione ma nessuna intenzione di uscire dalla mia lobby allora è quale fatto che fatto il glitch e quindi non vuole uscire però mi sta chiedendo se io lo faccio uscire che l'abbiamo rinchiuso qua sotto se io lo faccio uscire lui esce ha detto almeno così dice poi non lo so dal dire al fare c'è di mezzo è quindi scrivetemi in chat siete con pro o contro nel farlo uscire da questa gabbia nella speranza che lui quitti silence please davide science i speak with my chat science case e non la posso far uscire non lo so non lo posso per uscire un attimo anche la qua prego prego david you fuera david fuera david you you take tutto you take only only you take only please todo todo yes todo david perdono por los insultos però tenias que salir fuera ok ok you fuera please thank you so much si un momento si ma dita mezz'ora compa david ma che teri di david no david i don't accept your request bico because 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 you don't quit quindi but but you poco simpatico fuera please fuera david cuatro ma bo method ma bico gigantesca ma bico c'era un david david ferrani wait ti no 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 mamma mia dell'amore molto david mi promettiste qui fuera però non è tipo no no me promettiste qui sera qui fuera come on please come prima prima primero 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 c'è quando è stabas no 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 vai prenditi tutto quello che vuoi potete prendere tutto quello che volete da qua dentro la vasca no 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 eh proprio capito si 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 c'era bot oh se calma se calma te calmi david coppia l'arra capo infuriato mette per me sì dobbiamo riuscire a bloccare david per forza lo dobbiamo rinchiudere david amico io mamma scopo no no mi aiuti a chiudere ok no no non sono riuscito aiuta messi si non hanno aspetta ah vai 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 no a david li avevo dati per messi oh porco vabbè vai vai li ho dati ad entrambi vai 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 dove sta qua 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 in fondo andiamo andiamo all'attacco sto pure laggando io mi accetti la richiesta si ve l'accetto raga un attimo no perché stavo accettando a david no a dedo vai amico 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 vivo io non lo smesso io non lo smesso amico non lo smesso amico david dove ho pensato non lo trovo più è manco io david you you fuera david you fuera you fuera david you promisseste si ma boh anzi facciamo così allora gli accetto la richiesta così la posso segnalare segnalo al giocatore e lo truffi giusto come lo truffo come non lo so non so truffare eeeh allora tirano mano gli amico eeeh assenza non partecipazione assenza non partecipare non partecipazione ok però lo devo trovare a david ok eccolo accetta si segnaliamo che queste no you fuera no dammi permisi no you fuera dammi permisi non comandi tu qua ecco ah david you noob david you noob eh you fuera because I don't very angry eh eh no dammi permisi amigo amigo a breve para prendere la cosa dejame prendere dejame prendere è chiuso fu 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 se si parla parla tanto alla fu tuttom la testa david david youtube david david youtube ma no ma no ma no niente rega faccio entrare altre persone scusatemi se vi espello ma aspetta 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 ma se io voglio voglio avere in salta no ma posso rimanere si ma ma sempre ma per ora no david david eres delgado eres delgado a te dicendo a te dicendo si mette in salta david david es delgado eres delgado no david david erite delgado eres delgado si e res delgadooss fa os no ad relying kod sociales No 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 no, l'ho mai paura. Eres delgado. Eres delgado. David 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 Puedo parlare con uno dei tuoi padri? Ok. Habla. Hola, hola. Un momento. Hola. Tu, io... Tu, io... Me... No, molesta no. Infastidisce me... Hola. Su, io... Me molesta... Mi... 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 Ma... Le gamma, si scrive su... Su Google Translate... Infastidisce me la scemo lessa. Bo... 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 Boãoooooo... Ma no... Si sera... Apri me boi! Apri me boi! Apri me boi! Apri me boi! Bye bye! Bye bye! Apri me boi! Basta. e spell in attimo dovevo bannare foschia veloce immediatamente mi ha distrutto la costruzione no quella lì al centro per fortuna no 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 quella di angelo non attimo foschia scarica blocca immediatamente è già uno mandato ok poi david block blocchiamo david immediatamente mi ha dato fastidio blocca questo qui chiudi allora non lo so blocchiamo qua comunque foschia comunque chiunque tu sia benvenuto nelle persone nel gruppo delle persone bannate e ci rimarrai per sempre grazie per avermi distrutto la costruzione gentile no 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 ti dico secondo me ha fatto anche bene così almeno mi viene lo sfunto di creare qualcosa di nuovo però vabbò comunque dicevo è il problema rega è non acquittato acquittato o si è notato gotto Grazie a tutti